benvenuti a silenzio in sala lo spazio di approfondimento sugli eventi e gli spettacoli che caratterizzeranno i prossimi giorni e partiamo subito dalla teatro petrarca di arezzo dove sabato 30 e domenica 31 marzo alle 21 appariranno due fra gli attori diciamo più famosi e amati dal pubblico teatrale e cinematografico che hanno recitato a proposito di cinema anche in successi come la meglio gioventù di marco tullio giordana o nei film di ferzan ospitec o gabriele mucino stiamo parlando di alessio boni e serra il mazza che portano in scena don quixote evidente ispirazione e trattazione dalla romanzo di miguel de cervantes saavedra l'adattamento e dell'autore aretino tra l'altro francesco niccolini lo spettacolo alla regia anche di alessio boni oltre a roberto aldorasi e marcello preier don quixote inutile descriverlo ma un pizzico di così di un accenno va fatto a questo cavaliere che lotta inseguendo ideali perduti per molti un pazzo visionario ma per tantissimi altri un eroe romantico coraggioso e soprattutto dal cuore d'oro nel corso dei secoli fin da quando forse il primo romanzo della storia europea uscì ovvero la fine del cinquecento don quixote è riuscito a conquistare davvero tutti grandi e piccini continuano a vivere sul palcoscenico attraverso adattamenti che sembra davvero non finire mai e non finire sembrano non finire mai questa volta al petrarca c'è appunto quello di francesco niccolini con alessio boni e serra il mazza i teatri stanno diciamo arrivando visto che la primavera incombente alla conclusione delle loro stagioni di prosa così a per due teatri del territorio quali il dovizi di bibbiena che conclude la sua stagione sabato 30 marzo alle 21 e 30 con una delle compagnie veramente storiche del territorio aretino ovvero la compagnia nata che in collaborazione con universo danza insieme sul palco nello spettacolo dal titolo abbraccio un incontro tra danza e prosa ispirato ai racconti dello scrittore israeliano david grossman e dello scrittore statunitense autore della celebre moby dick herman melville come sempre gli spettacoli del dovizi si accompagnano anche ad un'iniziativa quale i gusti a teatro vero una degustazione offerta al pubblico direttamente a teatro un momento di convivialità che da sempre contraddistingue il dovizi è un'occasione in più in fondo per vivere il teatro proprio come luogo di incontro per tutta una comunità abbiamo detto della chiusura delle stagioni di prosa accendendo in primis al dovizi adesso aggiungiamo anche il teatro dante di sansepolcro che lunedì primo aprile alle 21 propone la casa di famiglia una commedia scritta nel 2011 dal quartetto di artisti del teatro golden con a capo l'attore augusto fornari tra l'altro nel 2017 fornari ha portato la casa di famiglia anche al cinema adesso però stiamo parlando dello spettacolo teatrale della regia che fornari firma per esso è la storia di quattro fratelli accomunati da una cosa sola la casa di famiglia dove sono nati cresciuti dopo avervi trascorso la loro infanzia diciamo che il pasticcio comincia quando uno di loro che evidentemente è urgente bisogno di soldi convoca gli altri e annuncia proprio di aver ricevuto una offerta milionaria per vendere proprio la proprietà la casa di famiglia passiamo adesso al teatro di lucignano martedì 2 aprile alle 20 cioè paesaggio argentino un connubio da buenos aires dalla pampa e dalla patagonia firmato dalla cantante paola scoppa e dal chitarrista fernando mazza emozioni dunque di un viaggio attraverso l'argentina attraverso le sue danze tipiche i brani popolari il folklore il secondo stato più esteso dell'america latina offre davvero tanti spunti per un viaggio e questi due interpreti hanno davvero il crisma della autenticità visto che paola scoppa è nata a buenos aires si è trasferita in italia entrando a far parte della orchestra multietnica di arezzo e anche fernando mazza è nativo proprio della capitale federale argentina suonatore e costruttore comunque di chitarre dal 2016 è in italia dove prosegue entrambi i mestieri quello di musicista e quello proprio di liutaio monte sanzavino invece giovedì 4 aprile alle 21 e 15 al teatro verdi accademia dei semplici associazione voce in canto presentano canovaccio per clown quindi abbiamo un intero repertorio clownesco che va da pierrot il clown triste a balanzone il clown che da sfoggio sempre della sua saccenza poi ci sono i clown scaramouche tartaglia pulcinella che colorano di napoletanità il gioco e lo spettacolo fra i clown scoppiano alcune diatribe all'insegna della risata ma anche della tristezza come un po tipico del repertorio clownesco si alternano dunque risate e tristezza appunto attraverso partiture recitate e cantate dal prossimo fine settimana infine e per tutto il mese di aprile anche ad arezzo sbarcano le celebrazioni leonardesche in occasione dei 500 anni dalla morte del genio di vinci la sede è il museo dei mezzi di comunicazione e di via ricasoli l'esposizione si intitola leonardo da vinci in de divina proporzione l'esaltazione in questo caso per la maestria artistica e l'estrema precisione di leonardo che ben si sposano tra l'altro con le qualità indiscusse evidentemente dell'amico collega di sansepolcro luca pacioli amico matematico un connubio dunque fra geometria matematica e arte gigantografie di copie anastatiche a colori delle tavole realizzate da leonardo da vinci per il de divina proporzione costituiscono l'oggetto principale della mostra al museo dei mezzi di comunicazione